Chiudere definitivamente con il commissariamento della sanità, potenziare l'assistenza territoriale per ripensare al ruolo degli ospedali, contrastare la mobilità passiva e sollecitare maggiore coinvolgimento e più controlli per il privato convenzionato. Sono i punti principali su cui si è concentrato il confronto tra i candidati governatori della Calabria, Amalia Bruni, centrosinistra, Roberto Chiuto, centrodestra e Mario Liverio, indipendente. L'iniziativa è stata promossa dal sindaco medico Anao Assomed rappresentato dal segretario regionale Filippo Larussa e da quello nazionale Carlo Palermo. L'altro candidato presidente, Luigi De Magistris, non era presente avendo comunicato per tempo agli organizzatori la propria indisponibilità. C'è la necessità di programmare, ha detto Bruni, che ha definito il commissariamento una cura peggiore del male, di ricostruire la medicina del territorio. Sono stati pensati progetti straordinari anche durante la presidenza Oliverio, che poi sono rimasti nella carta. Adesso bisogna ricominciare andando per step e investendo su un patto con il governo e con i ministeri della salute, dell'economia e delle finanze. Il commissariamento è stato un disastro, ha sostenuto Chiuto, perché non ha ridotto il debito e non ha migliorato nemmeno il livello dei servizi. Da capogruppo di Forza Italia mi sono impegnato per fare approvare una norma per poter ripianare il debito. Un obiettivo allo Stato non raggiungibile perché la norma non si può applicare, visto che l'entità del disavanzo non si conosce. In questi anni contro il commissariamento ha sostenuto Oliverio, ho combattuto una dura battaglia, in solitudine contro tutti i governi, anche quelli espressi dal mio partito, ma ora vedo che tutti mi danno ragione. L'ex presidente che ha definito quella della sanità la madre di tutte le battaglie ha poi ricordato che proprio quando lui si insediò alla regione venne approvata la legge che prevedeva l'incompatibilità tra i ruoli di commissario e presidente della regione. Il confronto è stato moderato dal giornalista Rai Riccardo Giacoya.